Signore e signori bentornati oggi abbiamo due missioni da fare prima cosa ricevere queste due super ruote della fortuna Per vedere cosa possiamo vincere spero di vincere dei soldi Però quello bello guarda tutte schifezze quando aggiunto sti cappelli e sti roba qua fanno schifo Mi fanno cagare E' una schifezza va bene Perché aumenti il range ma non vinci mai niente di interessante infatti queste sono due ruote della super ruote della fortuna Perfetto abbiamo vinto merda Oggi voglio andare a cercare Questo Gioiello dimenticato in questa zona qua non so che cos'è comunque Se andiamo subito Ho fatto vi faccio anche vedere La missione avete visto quali tempo restante e sarà all'altezza Ottiene tra abilità velocità fantastica Tempo restante era due giorni e cinque ore e trentanove minuti Come cosa ho comprato già appunto la onda di sicurezza per come avete visto questo era un po' assoluto perché l'ho vinto E vorrei vincere poi questo ma ho dieci punti quindi non va bene Prossima volta Oppa oppa papà papà Attenzione Va tanto forte ma la strada non è il suo forte tenerla eh Abbiamo perso lo scarico Attenzione Attenzione Spacchiamo tutto tanto non ci interessa Va veramente forte sta roba qua eh Sta roba qua vi assicuro che va bene Vado dritto Lo faccio Yes Yes Sto frenando da un'ora io E' andata bene Allora siamo qua Siamo qua studiamo un attimo la zona vedendo La zona qui Allora 90 su 100 o in questo bosco qui O in questo o in questo Noi siamo qua Quindi direi di andare qui È giorno quindi Siamo propensi a trovare L'abbiamo abbastanza possibilità eh La vicino al lago o ce l'ho ancora? Vediamo Attenzione Sì vabbè Vabbè Sarà questo? No Pesaggio interessante però Io proverei ad andarmi Ok Eccolo lì Vai 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 a cannone Yes 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 Aspetta che arrivo tra poco Jaguar Che questa? È una Jaguar? F-Type? Una roba del genere? E-Type 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 Ok Fa cagare Cioè è una bella macchina Ma non è la macchina che cerco io Io cerco sportive Non ruderi d'epoca Anche se è una macchina comunque Una barca Ma una barca Ma una barca Ma una barca Giuglielo ho trovato Ne abbiamo trovati già abbastanza Non ne ho altri da trovare adesso in mappa Se non erro No Ok Abbiamo un vito da ride Abbiamo una ruota della fortuna Che faremo? Voglio vincere quei 175.000 eh Ho una macchina interessante Pantaloni Lo sapevo Guardate che schifezza Prima o poi finiranno Però Prima o poi finiranno Io direi signori Che spero che questo tutorial Piccolino Vi sia servito Ci vediamo al prossimo video Tutti da Tappox Tutti da Tappox